quindi per l'ennesima volta ho forato e questa volta ero con la verusca una ventina di chilometri un po meno da lecce ci siamo fatti una gita pre ferragosto una gita pre ferragosto ho forato sull'anteriore via con i commenti ho le camere d'aria non ho i tubeless non avevo con me nessun tipo di kit né dalla bomboletta nel mio caso fast né una camera d'aria con le leve necessarie per cambiare la camera d'aria quindi la verusca è scesa è andata con lucio io sono tornato a casa così adesso cercherò una camera d'aria dovrei avere una camera d'aria qua a casa vi metto qui vi faccio vedere come la cambio non è un tutorial ce ne sono un milione e quindi guardate come cambio la camera d'aria allora ovviamente prima di spostare tutto devo cercare la camera d'aria eccola qua c'è un casino pazzesco perché non ho tempo di sistemare poi sistemo tempo un giorno e di nuovo così allora queste sono le camere d'aria che io uso in viaggio sono camere d'aria normali non sono rinforzate questo dovrebbe essere l'anteriore ovviamente è nuova prima di manca un bulloncino adesso lo recuperiamo prima di provarla prima di montarla io verifico che sia a integra visto che sono a casa e ho tempo ottimo ovviamente il metodo più sicuro per gonfiare per vedere se la camera d'aria e gonfia e vabbè se la camera d'aria non è sparata è questo il metodo più antico non è sparata è il metodo più antico Grazie a tutti A occhio Vediamo Allora, qui forse Non so se ci si mette a fuoco Ma qui forse c'è qualcosa Ora me lo devo segnare in qualche modo Così poi quando smonto Vedo dall'altra parte Quindi prempiamo l'uniposcar Me lo segniamo così Allora 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 Controlliamo Che non ci siano Danni Allora Allora ovviamente Per l'ennesima volta che foro Non trovo Mai 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 Niente Un chiodo Una scheggia Un taglio preso da una roccia Niente Non trovo mai Mai niente Mai Neanche al punto che mi ero segnato prima C'era niente Non trovo mai Allora Autore Allora Di Ti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, ho finito, ci ho messo una mezz'ora, con calma se avessi dovuto cambiare anche quella posteriore, ci avrei messo un'oretta. Mani nere, felice, felice perché io consiglio sempre a tutti, ovviamente sono consigli, prendeteli come volete, di saper fare questi piccoli lavori. Sono quei lavori che durante un viaggio, se non sapete cambiare una camera d'aria, nel mio caso, o riparare, con il kit ripara tubeless e la gomma, durante un viaggio ve lo rovinate. O perlomeno vi bruciate almeno un giorno, se siete fortunati che il soccorso stradale o l'officina più vicina sia reperibile. E non bisogna magari attendere ore sotto il sole o magari fare ore a piedi perché siete in una zona remota. Quindi il mio consiglio, imparate a fare questi lavori e niente, sono un po' stanco e sfatto, sono forse, non lo so, alle 8, devo andare a cena fuori, mi stanno aspettando, devo fare la doccia, ho le mani nere, nerissime, nerissime. Da Daniele è tutto così, un video uscito così per caso, non so se vi è piaciuto, grazie per essere arrivati fino a qui, commenti, polemiche e tutto quanto, li aspetto nei commenti. Ciao e grazie. Ah, mi sono dimenticato, va bene tutto quanto imparare a fare questi lavori, ma ragazzi, usate la newtonmetrica, l'ho appena messa via, l'ho persa, eccola qua. Non stringete mai nessun bullone a caso o a morte, usate una newtonmetrica, una chiave newtonmetrica, la trovate a pochi soldi, 30-40 euro, fino a partire anche a 5-1000 euro, però 30-40 euro per un uso casalingo va bene, a una qualsiasi brico, un negozio, insomma, di utensileria. Quello è fondamentale, ovviamente durante il viaggio non è che ci portiamo alla newtonmetrica, l'importante è non serrare i bulloni a morte, mi raccomando.